L'area in questione è quella dove sorgerà il nuovo ospedale di Maglia Melpignano. La ripresa delle audizioni in commissione bilancio dopo la pausa agostana non ha confermato le previsioni ottimistiche rese dal direttore generale dell'ASRA nel luglio scorso. Il progetto della bretella che deve collegare l'ingresso del pronto soccorso alla nuova 275 Maglia Leuca non c'è. Non è chiaro chi affronterà i costi della stessa. La novità è emersa in commissione proprio perché era attesa la conferma del deposito del progetto. In realtà il RUP ha fatto sapere che prima del progetto è necessaria una convenzione con ANAS, cosa confermata da ANAS stessa che ha però aggiunto di non avere risorse per provvedere ai lavori autonomamente. È necessario infatti che vengano prima individuate le risorse per farlo. Io in questo momento non ho un progetto perché poi il progetto mi deve arrivare, devo acquisire questo progetto e dobbiamo definire i termini di polarizzazione. Ma sicuramente di finanziamenti, io ho un progetto tra l'altro in corso, finanziato, bloccato, non ho altri finanziamenti. Sono sei le interferenze emerse rese note da RUP. Oltre a quella della bretella ANAS, della fibra ottica che passa dall'area del cantiere, ma già in via di risoluzione del vincolo bypassato, della sovrintendenza su una porzione dell'area, della presenza dei binari della sud-est che non ha concesso la deroga per troppa vicinanza, è stato quindi necessario girare la sagoma dell'ospedale, ce ne sono altre due. La prima è che la condotta del gas passa a 70 metri e non a 100 dall'ospedale. Si attende quindi ad ora la risposta dei vigili del fuoco sulla deroga. E infine, la più complessa, di lì, passa anche la condotta fognaria di ACUPI. Per lunedì sono previste nuove audizioni per capire se Acquedotto sia disposto o no a spostare la condotta. Intanto è stata riprogrammata la data di fine cantieri per l'ospedale San Cataldo di Taranto. Il 30 giugno 2024, man mano che le gare per le arredi e attrezzature procedono, avendo ricevuto i 105 milioni dal governo centrale, sarà completato appunto il cantiere. Ma serviranno altri 25 milioni di euro per costruire i plessi della facoltà di medicina, approvata dopo la progettazione del 2017. Per l'ospedale Monopoli-Fasano invece si attende che il comitato tecnico-consultivo si esprima sui soldi in più chiesti dall'impresa, alla quale però nel frattempo sono state combinate sanzioni per i ritardi nella consegna del cantiere. Grazie. 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 Grazie.